I soldi contano tantissimo per un motivo molto semplice, i soldi ti danno la libertà di non fare quello che non ti piace fare, come ho detto prima, di dire no agli stronzi, di dire no alle persone che non ti piacciono, di rifiutare i lavori, di fare esattamente quello che ti dunque, i soldi sono fondamentali, però dipende quanti soldi, a me bastano questi soldi per dire di no a tante cose che non mi piacciono.